Sono a novembre in Monika Corte, a Nashville. Ciao! Qual è il background? Durante i miei tre mesi a Nashville Un incontro mi è rimasto particolarmente nel cuore, l'incontro con alcune persone che vivevano in strada. Se in Italia li chiameremmo pancabestia o più semplicemente barboni. Lui lo chiamerò John. John si è rivelato davvero una persona gentile. Questo segmento che facciamo adesso, Brandon, questo è dove il vostro proprietario verrà molti nuovi bambini. La canzone che John sta cantando si chiama Rainbow Connection ed è tratta da The Muppet Movie del 1979. dove viene cantata da Kermit Larana. Cigarazzi Eravamo in pieno centro di Nashville. Molti rumori coprivano la delicata voce di John, ma non dimenticherò mai il suo sorriso e la dolcetta di questa canzone. John, spero che tu stia bene e con te i tuoi amici. Spero fortemente che voi possiate avere almeno un letto caldo durante questo e i prossimi inverni. in un nuovo burro. Non veloce. Ok. Ah, grazie. I just gave you his license. I love you Come on and get rid of and then everyone would start shopping